Gli arresti domiciliari tre cinesi e chiuse quattro casse nelle quali veniva praticata la prostituzione. Continua la lotta alla prostituzione. La squadra mobile di Venezia ha sequestrato quattro centri massaggi, tre nel veneziano, uno a Spinea, due a Mestre, uno nel Trevigiano. In relazione a questo centro ci siamo potuti avvalere anche dell'attività della squadra mobile di Treviso. Gli investigatori sono riusciti a documentare in maniera inequivocabile che in questi centri non si praticavano solo massaggi. Un'indagine condotta molto bene dalla squadra mobile di Venezia che ha consentito di accertare che in questi centri massaggi venivano praticati, oltre che i massaggi, anche qualcos'altro. Oltre una decina le prostitute costrette a fornire i propri servizi, tutte in regola. Le loro sfruttatrici prendevano il 70% dei guadagni. Una seduta costava circa 50 euro. Le indagini sono scattate quando un cittadino cinese si è presentato in questura chiedendo il rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Ha detto di essere titolare di un centro massaggi su cui gli investigatori hanno deciso di concentrare la propria attenzione. E i successivi appostamenti, le intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di alcuni clienti hanno permesso di scoperchiare il giro. Le tre arrestate, una di 29 e due di 35 anni, devono rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. Devo dire che questo si inserisce in una strategia delle forze di polizia e della Procura della Repubblica di un fermo contrasto a questo odioso crimine che è lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione.